I commercianti e gli artigiani di Via Taverna hanno lanciato un messaggio chiaro. Per noi l'attuale ospedale è vita, alle elezioni non considereremo in alcun modo le forze politiche favorevoli alla costruzione della nuova struttura. Lo hanno detto ieri sera durante una riunione alla cooperativa Lupi di Via Taverna, convocata per ascoltare la parere dei candidati a sindaco. Da settimane l'Asla sta cercando di affrettare i tempi affinché la politica decide entro l'anno la sede. Tra le proposte finora venute a Galla ci sono le aree dell'ex caserma Lusignani a Sant'Antonio e l'expertite. Ma l'avversità dei commercianti al progetto è totale. Ne hanno illustrate le ragioni ai presenti Daniel Bozzarelli e Giovanni Buzzetti, titolari di due attività storiche di Via Taverna. Crea, io penso, disagio non solo ai commercianti ma anche alle vietanti, ma io penso a tutti i cittadini di Piacenza, una proposta calata dall'alto a qualche mese dall'elezione senza che nessuno, né nell'organismo istituzionale, né nei confronti con il cittadino, né sapesse qualcosa, senza nessun tipo di confronto, chiudendo questo protocollo d'intesa tra il Comune, la Regione, il Demania e il Ministero della Difesa che ci ha lasciato tutti perplessi, incluso naturalmente chi lavora all'interno dell'ospedale. Noi siamo commercianti, viviamo tra Via Campania, Piazza Borgo e Via Taverna, abbiamo fatto i nostri investimenti, abbiamo assunto persone negli anni, abbiamo sviluppato quello che è l'attività commerciale all'interno dell'ospedale, al di fuori dell'ospedale, ma non è solo questo, io penso che come cittadini questo tipo di perplessità sia diffusa, lo sappiamo parlando con i clienti, parlando con gli stessi pazienti dell'ospedale, incluso i lavoratori dell'ospedale.